Vuoi perdere i chili in eccesso in modo sano e divertente? Hai provato tanti allenamenti di diete ma non sei mai riuscita ad ottenere la perdita dei tuoi chili di eccesso? Ciao sono Alessandro Cencic, Life Coach e Personal Trainer e con il mio metodo attuale ti faccio scoprire i segreti per perdere questi chili in eccesso e ritrovare il tuo benessere psicofisico.